Buonasera a tutti e benvenuti al Masagat Oriental Dance Festival, il primo festival internazionale di danze orientali a Bari. Volevo ricordarvi innanzitutto il significato della parola Masagat, un significato estremamente interessante e profondo. Masagat è una parola magica, estremamente utilizzata in Oriente, una parola edonistica se vogliamo, significa il piacere, il piacere di incontrarsi con tantissime ragazze che condividono la nostra stessa passione per la danza orientale, il piacere soprattutto di conoscere insegnanti di Oriente da tutto il mondo e da tutta Italia, il piacere di condividere questa straordinaria esperienza in un modo inaspettato e sorprendente. Signori e signori, benvenuti al Masagat Oriental Dance Festival! Mi sembra giusto ringraziare anche i nostri insegnanti internazionali che, pensate, vengono da tutto il mondo! Camellia dall'Egitto, dal Cairo! La nostra straordinaria insegnante che viene dall'Egitto e una delle più famose, la stella del Milo, the star of the Nile, our Camellia! We thank you so much! Thank you Camellia! And the wonderful Ariella, la fantastica Ariella, la nostra, la nostra, la nostra... ...hanno fatto un viaggio lunghissimo per venirci a trovare fin a Bari, quindi un grandissimo applauso alla nostra Ariella. E sempre dagli Stati Uniti, sempre dalla famosa America, ma dall'altra parte del continente, da Miami e la straordinaria Virginia! Thank you so much! Thank you so much! Our public is fun and crazy for you! Ariella, Virginia e Camiglia! And then, e adesso, lo straordinario Magliotì dalla Francia! Magliotì è uno degli insegnanti più apprezzati a livello mondiale, stiamo parlando di star che ci hanno il mondo per portare la loro arte straordinaria. Quindi un altro meraviglioso applauso per Magliotì! E infine è necessario fare un caloroso ringraziamento al nostro direttore artistico che ha permesso tutto questo che ha dato vita al Madagat Oriental Dance Festival, originario dell'Egitto, Uaer Manzur! Uno dei più importanti direttori artistici di danza orientale da tutta Italia! E adesso siamo pronti ad iniziare! Sarà una competizione straordinaria quella che precederà lo spettacolo di oggi! Stiamo parlando della competizione internazionale di danza orientale Madagat! Si sfideranno sette danzatici! Ognuna di loro ha preparato una coreografia straordinaria e saranno tutte giudicate da questa autorevolissima giuria che viene da tutto il mondo! Vorrei cominciare col presentare, quindi pregherei il pubblico in sala di abbassare un po' la voce, di creare l'atmosfera, perché stiamo per presentare la prima danzatrice che accenderà e aprirà le danze nel vero senso della parola. Signori e signori, stiamo parlando di un nome d'arte, Faresh. Faresh ci porta una coreografia di Marilena Iside Dele Teres, l'insegnante che insieme al direttore artistico egiziano di fama mondiale Welman Sur ha permesso di dar vita al Madagat Oriental Dance Festival. E con questa straordinaria esibizione di danza del bastone, coreografia di Marilena Dele Teres si esibirà per noi, Marta Dellino in arte, Faresh! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!